Poi succede un altro fatto abbastanza singolare. In Canada, quando qualche studente si mostrava particolarmente valido, non lo affidavano ai matematici canadesi, lo mandavano agli Stati Uniti, da alcuni dei matematici più importanti. Interessante sto fatto! E allora c'era un giovane, Pierre Bouchard, di lingua francese, canadese-francese, era particolarmente dotato e si vedeva che era un quadro. E allora Takahashi, il direttore del dipartimento matematico di Montreal, cosa ha fatto? Invece di mandarlo negli Stati Uniti, l'ha mandato a Ferrara e gli ha pagato tre volte l'aereo, poi gli ha pagato l'albergo, facendo una grossa spesa. Invece se lo mandava a Boston, tante volte in macchina siamo andati da Montreal a Boston, in macchina in otto ore e mezzo andavamo. Invece lo manda in Italia, con spese enormi. Pierre Bouchard fa una bellissima tesi, che pubblica nel 1975 e nella tesi lui dice io ringrazio molto il professor Mario Fiorentini che ha diretto la mia tesi e soprattutto perché mi ha introdotto in questo ambiente bellissimo di Ferrara che si può considerare la mecca dell'algebra commutativa nel mondo. L'algebra commutativa era la sua specialità.